Con Lorenzo Neto, capitano del Semproniano, che ha appena vinto la finale del torneo di Roccalbegna, Lorenzo, una finale intensa, molto dura, alla fine la sua squadra è riuscita a prevalere, insomma nel secondo tempo è venuto fuori maggiore carattere, la maggiore grinta, la maggiore voglia di vincere. Sì, giocavamo contro il Barlo Stollo, sono sicuramente più esperti di noi, più abituati al calcetto, noi siamo tutti ragazzi che vengono da squadre a 11 e al primo tempo siamo stati un po' in difficoltà, erano messi meglio in campo, poi la lunga oltre il carattere è venuta fuori anche una condizione fisica migliore della loro, probabilmente siamo tutti ragazzi più giovani e alla fine abbiamo spuntato agli ultimi minuti, rimonta, davvero una bella finale. Un giudizio sul cammino della vostra squadra, com'è stato questo torneo? Sicuramente è un bel torneo, è un bel impianto e per quello che riguarda il nostro cammino siamo stati bravi perché abbiamo preso pochi gol e alla fine abbiamo vinto tutti, è un cammino perfetto. Hai detto che nella tua squadra ci sono tanti giocatori che di solito giocano a calcio 11, questa è un'occasione anche per ritrovarti durante l'estate magari con gli amici in un posto di villeggiatura per continuare a giocare a pallone. Sì, siamo anche uno dei tornei più vicini a casa nostra, vicino a Semproniano, poca distanza, l'impianto è bello, è molto piacevole. Grazie.